Anticristi. Chi è l'anticristo? Commento. L'anticristo è uno stato di coscienza molto limitato che è lontano dalla scintilla divina che è in ogni uomo. Molti condottieri che nel corso della storia sono stati vincitori o vinti e che hanno sacrificato milioni di vite a loro io ipertrofico sono stati degli anticristi.